In linea, allora io volevo fare un invito perché la sala come vedete ragazzi è grandissima, è ampia e magari gli sposi un po' si sentono soli e allora se c'è qualcuno degli amici che vuole andare a fare un brindisi con gli sposi Ma che? Ammazza! Quando si dice che anche la bocca deve aprire Ma mi pare di capire che sono gli amici di San Severo, gli amici degli sposi Facciamo un applauso a tutti gli amici da San Severo E adesso un altro bel applauso agli amici da Lucera Oh yeah